Allora ciao amici di Youtube e ben ritrovati sul mio nuovo video Ci troviamo in autostrada e stiamo per andare al lago di Garda Purtroppo ci dobbiamo andare in macchina perché il tempo è brutto anche se ora è bello Il tempo è brutto, tutta la settimana mette è brutto quindi si rischierebbe di beccare la pioggia E si sa che con la pioggia è bagnato Allora amici vi intrattengo solo pochissimi secondi, devo darvi solo alcune piccolissime news La prima news è che siamo in macchina, la seconda news è che lo potete vedere benissimo da soli Ma che cazzo ne frega loro che tu fai un video di vedere in macchina Allora fate sapere alla mia fidanzata se vi interessa che vi dico che sono in macchina anche se già lo state vedendo Ma lo guardo solo io sto cazzo di video No lo guardo anche Luca, ciao Luca Saluti anche a Luca che è il nostro fan preferito perché sta scalando la marcia Allora stiamo andando al lago di Garda, vi aspettano tanti bellissimi video Andremo a Gardaland Sto cercando di recuperare l'attacco per poter filmare anche le attrazioni di Gardaland Dopodiché non lo so cosa faremo nei prossimi giorni Tutto questo solo per dirvi, seguiteci sul canale In realtà questo video l'ho fatto anche per vedere se riesco a editare senza il computer Solo grazie al mio cellulare E quindi vi intrattengo ancora per poco Dicendovi Ah no, va bene così Ho detto tutto Volevo solo dirvi Grazie che mi seguite in tanti Grazie Luca e grazie soprattutto alla Ele che è il numero uno degli iscritti Mi raccomando a tre iscritti faremo un mega giveaway Incontro, incontro Bellissimo l'argomento dell'incontro Vorrei organizzare un incontro per tutti voi che mi seguite Allora devo solo organizzarmi se prendere la moto perché siamo in due Oppure l'autobus perché siamo in 40 Amici per ora è tutto e ci vediamo al prossimo video Ciao